Alla presenza del questore di Lucca Dario Sallustio che ha incontrato per l'occasione la stampa per presentare questa iniziativa è stata tenuta a battesimo l'apertura dello sportello passaporti realizzato presso la sede della Polizia Stradale di Bagni di Lucca e che dunque si aggiunge dopo Forte de Marmi, Lucca e Viareggio agli sportelli della questura dove è possibile espletare le pratiche per la richiesta o il rinnovo del passaporto. Questo servizio nell'ottica di venire incontro alla popolazione della Valle del Serchio. Uno sforzo importante della questura di Lucca che cerca di venire incontro da una parte alle esigenze dei cittadini della Garfagnana, della Mediavalle che chiaramente su Bagno di Lucca hanno maggiore facilità a raggiungere gli uffici di Polizia e dall'altra gli stessi cittadini residenti di Lucca che possono usufruire del servizio straordinario che verrà reso il sabato mattina sul commissaretto di Forte de Marmi. Per quanto riguarda il percorso per ottenere il passaporto e il rinnovo la procedura non cambia. Si può svolgere l'iscrizione online con la differenza che si potrà scegliere appunto di completare la pratica nella sede della Polizia Stradale di Bagni di Lucca che si trova a Fornoli in via della Chiusa 25. Questo ufficio alleggerirà anche il lavoro degli altri sportelli della questura di Lucca per quanto riguarda l'attività dei passaporti. Un'attività davvero importante come dimostra il dato di 13.000 passaporti che vengono rilasciati nel corso di un anno sul territorio lucchese. Il servizio è attivo da subito e già nel giorno della presentazione sono arrivate le prime richieste dai cittadini della valle. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 9 alle 12 tramite appuntamento da richiedere attraverso il consueto canale online. Soddisfazione per questo importante servizio è stata espressa anche dal presidente dell'Unione Comuni della Garfagnana Andrea Tagliasacchi